A un mese di distanza dalla morte di Elvira Zibra, la giustizia tarda ad arrivare. L'assassino non si è fatto né un giorno né un'ora di carcere e ancora a casa, agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Oggi i commercianti di Chiaia hanno voluto ricordare la ragazza e insieme alla madre e al fidanzato hanno posto dei fiori sul luogo dove il motociclista travolse e spense per sempre la sua giovane vita. Il fidanzato non ha voluto parlare con i giornalisti devastato dal dolore, la madre invece invoca giustizia. Sono nove mesi che sto aspettando la giustizia per mio figlio e per Elvira quanto devo aspettare? Anni? Sono nove mesi, dicono che stanno andando perché io sono l'avvocato di mio figlio, però per il momento, come si dice, il giudice, forse a dicembre, inizio 2023 e per Elvira? C'è stato un pentimento, un messaggio di perdono da parte della persona che ha investito Elvira? No, 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 a me non ho avuto niente, poi non lo so, no. Lei sarebbe pronta a perdonare? No, per l'amor di Dio, lei perdonerebbe? Io no, come si dice, Dio perdona, ma io no. Se per Elvira il comune si è subito attivato nell'installare i dissuasuri, a piazza San Nazaro, dove ha perso la vita l'ingegnere Giuseppe Iazzetta, quando faranno qualcosa? Si è detto durante la conferenza stampa improvvisata per strada. I semafori infatti sono ancora a luce gialla lampeggiante e i veicoli circolano ad altissima velocità. Alla commemorazione è presente anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. I due assassini di Elvira e Mustafa sono a casa. La mamma e la famiglia di Elvira e Mustafa hanno già iniziato a scontare l'ergastolo. L'assassino dell'ingegnere Iazzetta è a casa. La domanda che faccio a tutti, che mi pongo è, se una persona prende una, non ha la patente, prende una moto, viene con un'altra persona senza casco, senza assicurazione a fare un cavallo a bordo e ammazza una donna e va a casa, secondo voi lo rifarà o non lo rifarà? Le altre persone che idea sarà passata? Che se tu ammazzi a uno, non paghi e che la vittima è un fesso.